Riflessione su questi giorni in Italia e nel mondo. Autore Raniero Cicconetti, lunedì 9 marzo 2020. Vi invito a visitare il mio blog. Il link è ranieroblog.altervista.org Gli aspetti positivi che sussistono, a mio parere, in questa situazione di restrizioni allo svolgimento di qualsiasi attività pubblica e all'erogazione dei rispettivi servizi di precauzioni igieniche da adottare, sono i seguenti. In primo luogo, il valore del giornalismo effettuato con assoluto senso di responsabilità e ricerca della verità dei fatti da divulgare in modo puntuale. In secondis, l'atteggiamento volta ad informarsi per quanto possibile con obiettività e ponderatezza evitando di cedere alle false notizie diffuse a volte sul web e sui social network e all'impulsività, quindi il principio di realtà e il valore della vita e della salute. Restituire da parte di ogni cittadino la giusta importanza alla scienza e al progresso scientifico. Curare al meglio l'igiene personale e degli ambienti di vita e di lavoro come atteggiamento che comunque dovrebbe essere pienamente insito in ciascuno di noi ed il cui apprendimento avviene fin da bambini. Riscoprire la passione e l'interesse per le attività svolte manualmente come cucinare fare attività sportiva all'aperto ad esempio in montagna e nei parchi pubblici dedicarsi alla consultazione di libri e riviste scrivere detto per inciso io mi dedico a questa attività in modo sincero e appassionato parlare con le persone care e con gli amici anche delle attuali vicende per aiutarsi e incoraggiarsi a superarle al meglio vedere un film magari da autore per emozionarsi e al tempo stesso sentirsi più sereni esistono quindi queste attività molto interessanti e piacevoli da poter fare in questo periodo compatibilmente con i propri impegni quotidiani sussistono al nostro malgrado patologie anche oncologiche ben più gravi quanto alla sintomatologia e agli effetti arrecati sull'organismo ma al contempo bisogna sottolineare i notevoli passi avanti progressi nel settore medico sanitario e scientifico il sistema sanitario nazionale pur con le sue criticità annovera strutture di eccellenza notevole applauso e riconoscimento alla professionalità all'abnegazione all'impegno profuso costantemente in questi giorni in fondo particolare dagli operatori sanitari dai medici e dagli infermieri le misure e i provvedimenti di prevenzione e monitoraggio implementate in Italia sono seguiti attualmente anche da altri paesi ad esempio in Europa è fondamentale questa sinergia ed unità di intenti nell'affrontare l'attuale situazione e nel risolverla ad onore del vero restrizioni rigide ma opportune sono state approntate in primo luogo in Cina da dove tutto è iniziato nella vita ho imparato che ad ogni situazione esiste una soluzione bisogna analizzare ciascun avvenimento in modo molto equilibrato nella sua reale dimensione senza mai sottovalutarlo e neppure sopravvalutarlo ho imparato anche che nulla avviene per caso esiste sempre una stringente relazione di causa-effetto in ogni frangente della vita credo che ognuno nel cuore può trovare giorno per giorno entusiasmo dinamismo e amore per la vita tutti insieme possiamo risolvere questa situazione attuale sicuramente complicata grazie a tutti per la visione e l'ascolto di questo filmato